Buon pomeriggio ben ritrovati con l'informazione apriamo con la cronaca la cronaca nera omicidio ieri sera poco prima della mezzanotte a Sansevero ucciso con un fendente all'addome un 17enne si cerca il suo assassino attualmente irreperibile anche gli minorenne ha appena 15 anni sentiamo sarebbe stato accoltellato a morte da un ragazzino di 15 anni con un fendente sotto il costato francesco pio d'augelli il 17enne ucciso nella serata di ieri a Sansevero la polizia è tuttora alla ricerca del minore il quale al momento risulta irreperibile l'omicidio è avvenuto in via lucera nel comune foggiano a poche decine di metri dall'abitazione della vittima il delitto sarebbe scaturito da motivi passionali pare la gelosia per una ragazzina fidanzata del 17enne secondo le prime testimonianze confermate dal nonno del ragazzo il 15enne la vittima avrebbero avuto un litigio lo scorso fine settimana in quella circostanza il presunto assassino avrebbe minacciato di morte il 17enne poi ieri sera i due si sarebbero affrontati la vittima dopo aver ricevuto la coltellata al fianco ha percorso qualche decina di metri prima di accasciarsi al suolo c'erano due macellai della zona che hanno cercato di rianimare il ragazzo ma è stato tutto inutile e il racconto di una testimone che ha assistito al tentativo disperato c'era un silenzio surreale ha raccontato la donna che si trovava lì per caso a spasso con il suo cane nonostante i soccorsi il 17enne è arrivato in ospedale già privo di vita quello di ieri sera è il sesto omicidio avvenuto dall'inizio dell'anno in provincia di foggia il secondo nella città di san severo poche parole per definire foggia quelle del procuratore nazionale antimafia giovanni melillo nella sua visita di ieri all'università di foggia nel convegno a tema organizzato dall'associazione nazionale dei magistrati da a aiga e dall'ordine degli avvocati di foggia sentiamo l'intervista di fabrizio sereno il foggia che ricordo io è molto diretto da quella della quale leggo è una città e non solo una città un'intera provincia che è attraversata da profondi gravissimi fenomeni che è una città e non solo una città ma un'intera provincia che è attraversata da profondi e gravissimi fenomeni dei quali non c'è ancora consapevolezza a foggia l'ultimo caso che ha suscitato polemiche contro i commissari straordinari del comune riguarda la nomina dei nuovi componenti dell'organismo di valutazione ce ne parla lucia piemontese si acuisce ulteriormente la già grave frattura esistente al comune di foggia tra la commissione straordinaria e la tecnostruttura l'ultima decisione che sta provocando mugugne e perplessità trapelate anche all'esterno di palazzo di città riguarda la nomina dei nuovi componenti dell'organismo indipendente di valutazione i commissari hanno scelto come presidente il 42enne Michele Ariano di Torremaggiore poi c'è la 45enne commercialista Rosa Maria d'Amore di Cava dei Tirreni e infine la 57enne biscegliese Maria De Filippo immediatamente sono sorte polemiche per il fatto che Ariano che non è un dirigente ma è un funzionario, un ragioniere del comune di Lesina dovrà valutare dirigenti dell'ente capoluogo come di Cesare Affatato Ariano ha avuto molti incarichi nella propria vita è stato anche al comune di San Nicandro oggi siede nella commissione tributaria regionale sede staccata di Foggia e quanto ad organismi di valutazione si è occupato di enti estremamente piccoli che nulla hanno a che vedere con un comune capoluogo che ha 529 dipendenti quanto ad Amore c'è un rapporto di precedente frequentazione e conoscenza con la segretaria generale D'Ambrosio le due hanno lavorato insieme nel 2021 nel commissariato comune di Afragola infine la De Filippo è stata segretaria generale della provincia Bat fu intervistata nell'Espresso nell'inchiesta alle mille poltrone di Barletta e oggi è funzionaria di Arca Puglia Centrale Dai 420 di 6 anni fa sono ridotti a 70 i cani ospitati nel canile rifugio comunale di Foggia la struttura di via Manfredonia già dichiarata inagibile è versa in uno stato di totale degrado e abbandono dove gli operatori dell'associazione a largo raggio continuano a garantire accoglienza e cura ai cani il servizio di Daniela Corfiati una settantina al momento i cani ospitati nel rifugio di via Manfredonia una struttura fatiscente e pericolante già dichiarata inagibile a seguito di sopralluogo dei tecnici del comune e dell'ASL qui cani ed operatori non ci possono più stare eppure non esiste al momento un'alternativa che possa svuotare definitivamente l'ex macello l'associazione a largo raggio da 2015 gestisce il canile che fu preso in consegna con 420 esemplari ben oltre la quota di 200 stabilita per legge operatori e volontari sono riusciti con una campagna di adozioni a tappeto a ridurre sensibilmente gli ospiti con tutte le difficoltà del caso con una retta di circa 10.000 euro al mese a copertura della retribuzione dei quattro dipendenti coadiuvati da sette volontari dei costi per mangimi, farmaci antiparassitari delle cure mediche in caso di analisi ed interventi di chirurgia che vengono effettuati a pagamento presso centri veterinari privati oltre alla manutenzione dello spettrale rifugio nonostante le ripetute richieste di incontro per trovare un'argine alle criticità i commissari a Palazzo di Città non hanno mai risposto nel 2021 il bando per l'affidamento della gestione del canile è andato deserto come i precedenti ritenuti insufficienti 591.300 euro di importo a base di gara a ribasso per un'aggiudicazione di tre anni a carico di un soggetto privato che deve disporre di una sua struttura nessuno si è fatto avanti troppo nerosi servizi a norma di legge per il benessere degli animali da custodire a cui si sarebbe dovuto affiancare anche l'attività di ricovero e cura dei gatti randagi intanto da dieci mesi con un provvedimento della dirigente Salvemini tutti i cani senza padrone che vengono individuati sul territorio di Foggia devono essere trasferiti a Sansevero e affidati all'EMPA una scelta contestata da associazioni ed animalisti che però è stata prorogata di altri tre mesi fino a settembre per un impegno di spesa di 17.500 euro Crisi delle sale cinematografiche gli incassi si riducono sempre più ma c'è anche una mutazione un cambio delle abitudini delle famiglie dopo la pandemia ma sotto accusa ci sono anche le piattaforme online sentiamo Mauro Pitullo Cinema in crisi? Assolutamente sì gli italiani dopo il Covid-19 non tornano nelle sale cinematografiche così mentre i ristoranti sono spesso affollati i concerti live registrano continuamente sold out i cinematografi denunciano una crisi di presenza e di incassi che sta assumendo caratteristiche oggettivamente inquietanti secondo recenti dati Cinetel infatti nel solo mese di maggio 2022 si sono incassati 25,7 milioni di euro corrispondenti ad un meno 46,6% rispetto al 2019 le cause tantissime il momento estremamente delicato come ribadito all'attacco da Francesco Ciccolella titolare degli omonimi cinema le sale vengono spesso aperte anche per sole 2-3 persone sul banco degli imputati mancanza di film drastico cambio delle abitudini delle persone che oggi preferiscono guardare i loro beniamini seduti comondamente dalle proprie case proprio così perché le piattaforme online sono il vero colpo di mannaia per i vecchi e buoni cinema e la colpa è da ricercare anche nella cosiddetta Windows ovvero quel lasso di tempo che intercorre dal lancio di una pellicola nelle sale a quello sulle varie piattaforme presenti sul mercato Bene, è tutto per questa edizione del TG Web del quotidiano L'Attacco grazie per essere stati all'ascolto l'appuntamento è questa sera in seconda edizione alle ore 20 buon proseguimento di giornata e a più tardi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti